salve a tutti ragazzi bentrovati su crystal cross gaming box con un nuovo episodio della nostra serie di sandland bene gente ho deciso di fare una terza puntata d'accordo un po perché effettivamente mi interessa vedere come si va un po avanti che cos'altro si sblocca e poi il gioco tutto sommato mi sta piacendo però non sono ancora convinto di voler portare la serie fino alla fine quindi mi raccomando fatemi sapere anche voi un po che cosa desiderate fare d'accordo come sempre per questa serie per lo meno in ogni caso abbiamo trovato alcuni elementi per il bot salterino che ci serve per andare avanti purtroppo però non è stato abbastanza e la nostra meccanica ha bisogno di altro ora parliamo con il sindaco e vediamo che cosa ci dice nel mente abbiamo fatto anche qualche cosina secondaria abbiamo fatto dei potenziamenti che è una buona cosa ma come no no niente del genere ma non hai detto che li avevi aspetta vero adesso li prendo ma che cazzo ma che minchia appunto questa proprio non l'ho capita controllo componenti richiesti per creazione veicolo ok è un telaio e dei fondi oltre a tutti gli altri componenti necessari ok allora veicolo crea veicolo controllare quali sono i componenti richiesti almeno componenti richiesti e verranno mostrati in rosso i componenti che non hai accedi a crea componente il menu componenti ok aspetta telaio per saltabot arma primaria ma secondaria motore sospensioni ok ma componenti crea componente ok a creazione componenti servono soldi e materiali per realizzare componenti tipo di veicolo con quelle componenti a realizzare ok bene salta bot acciaio di grado cavolo non ce l'ho l'acciaio maledizione ho tantissima dell'altra di altra roba ma non ho abbastanza serve l'acciaio acciaio di grado b e quindi devo andare a cercarmi un po di ma sono stato un idiota niente devo uscire devo uscire andare un po in giro a prendere e rievocare vecchie storie tipo quelle di due secondi fa ok allora vediamo cosa abbiamo qui sai che c'è in effetti potrei pure pensare di al mercante bull a è proprio qua fuori bene in effetti potrei pure pensare di fare così non so se ci arrivo però da questa parte di qua ci volevo tornare per quando c'è il bot salterino in effetti mi state dicendo che anche nei grotto si trovano altre cose quindi vabbè proviamo a vedere purtroppo devo trovare i materiali ragazzi al momento non è che ci sia molto altro scaglia di raptor ottenuta ok l'ho salvato fatto hey old man why do you have your eyes closed well because there's raptors and I'm scared we drove them away already huh oh they really are gone I truly am one lucky son of a gun wait now there's demons I'm not lucky at all if it's not one thing it's another for this guy haha serio and here I thought that with the raptors gone I'd finally get to make my deliveries to Spino Spino wait are you a peddler indeed I am then hurry before you get attacked again 80s is waiting oh you know 80s then are you the one who drove that raptor away they were snapping at my heel so I sent them flying that's all even so it doesn't change the fact that you saved me here take this as thanks I don't want it don't say that if I don't thank you properly my luck will sour hey I said I don't want your thanks don't force it on me well then I'll follow your advice and hurry on to Spino bye give me a break what's wrong with that guy in one year and out the other ok va bene sono voluti anche due secondi praticamente a fare sta cosa quindi va bene così riferisci tutta date ok è però in tutta onestà io credo che ok allora fatemi un po vedere dov'è che dovremmo andare qui né non penso che si vada da qualche parte quella è tutta coperta qui non penso che ci sia qualcosa eh eh sì eh cioè uscendo da questa parte non penso proprio di di ricavare qualcosa sì oppure mi servono mi servono minerali devo prendere un bel po di acciaio ok allora pezzi di ferro perfetto bene 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 così mi sta bene oh rottare anima cannone ok rottare rottame anima cannone ok bene credo che vada bene così francamente giusto eh sì perché i punti dove sono i soldati e i carri mi hanno dato abbastanza credo credo almeno qualcosa qui non pare di no francamente francamente oh cos'è questo? eh ho un bot salterino pure questo e questa è la gipetta che tenera ok è la prima volta che le vedo queste interessante va bene va bene guarda dovrebbe andare bene così abbiamo trovato abbastanza robetta ora prima di tornare ora prima di tornare ah mi sa che 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 mi serve un altro veicolo un po' più veloce perché ci sono le rampe per saltare di qua e di là ma col carro sicuramente non posso farlo quindi quindi vabbè dai dovrei avere il salta bot adesso non dovrebbero esserci problemi almeno credo ok bene andiamo va aspetta vai facciamo prima questa che casomai mi dà qualche ricompensa che mi può comunque essere utile per potenziamenti e cose varie chi lo sa vediamo oh benvenuti quel mercantino mi diceva che era salvato da un demone sul passato qui era tu era tu non era Beelzebub? mi ringrazio te anche sei davvero un salvatore non so cosa stai parlando non puoi solo lasciarla ringraziare? ho nuove vestiti per te senti libero di guardare oh interessante ok bene 9 oggetti in vendita oh energia delle tenebre ok dosi di difesa acciaio oh aspetta ops scusate ne compro un pochino ne compro una decina per sicurezza polvere asparocato bio olio vegetale corda adesivo argilla vento d'arredo reperibile dei negozi vento d'arredo sensore ammortizzante bla 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 cavi ne ho abbastanza credo di tutto quanto questa roba non me ne frega assolutamente niente dovrei riuscire perchè uno per esempio il motore di quel coso ce n'era uno un po' più potente che potevo già prendere perciò io il fatto è che questo non non mi dà la possibilità di vedere non capisco 85 più 207 radiale che cavolo ne so vabbè chi se ne frega finchè non c'è un serio problema magari evito ok olio vegetale ottenuto polvere asparocato b cavo di gato b ottenuti ok do you need anything? grazie ah componenti crea componenti allora questo cominciamo con questo poi ho applicato un componente mitra 5 mm motore olio di scorpione ah no non ce l'ho proprio questo forse non posso neanche farlo adesso non ce l'ho ancora può darsi vabbè intanto intanto preoccupiamoci gomma pteradon acciaio raptor va bene ok non è una cosa che posso fare ancora d'accordo quindi giorno componente cosa possiamo fare questo è al massimo questo potenziabile facciamoci proviamo facciamoci nah raptor acciaio raptor niente serve acciaio raptor che non so come fabbricare ma per adesso va bene così tutto l'occorrente per realizzare il saltabot perfetto veicolo crea veicolo componenti slot per i componenti creati ok secondaria mitra motore questo sospensioni questo gambe standard no 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 ancora l'acciaio di grado b ma che coglioni aspetta pensavo di averne preso abbastanza quel fatto di aver usato tutto l'acciaio in una botta per fare i componenti mi sa che è stata una grandissima cazzata già allora acciaio di grado b senti prendine 20 lo so così mi sto finendo i soldi purtroppo maledizione ho fatto ho fatto quando ho trasformato tutte le cose a partire dall'acciaio ho fatto una grandissima cazzata temo ma no costo 1600 dai che cazzo di palle madonna va bene ok allora devo vendere qualcosa vediamo tra i componenti che cosa posso vendere di che cosa non me ne faccio proprio niente probabilmente probabilmente questo dai francamente non me ne faccio proprio nulla credo incremento velocità cip efficienza consumi ma questa è per la per la macchinetta oh ma questa è per il carro ma quest'altra no ricarica rapida del cannone va bene ok facciamo così e spero spero tanto di non aver fatto una cazzata micidiale lo spero davvero spero davvero spero davvero finalmente cazzo aspetta un po' perché novità mitra pesante da 12 oh motore oh motore v8 attenzione ma non ce l'ho già io questo punto costa poco quindi non ho soldi però andiamo un po' qua secondaria mitra pesante però fa meno danni no e continua a essere l'intra pesante da pesante 12 ma ce n'ho due è scomodo perché uno non si ricorda quello che cavolo c'ha vabbè vabbè al diavolo finalmente l'ho fatto dai su di che cosa e che cosa Grazie, ma non ho i soldi, maledizione C'ho proprio un cavolo Dot chip sarebbe figo Sbloccarlo adesso, ma purtroppo non posso fare niente C'è una questa secondaria Oh, it's just that I saw her in the garage Fixing a car She was enjoying herself so much It was positively infectious Just watching her work Put this car lover in a good mood Next time, come over to say hello Instead of staring, alright? Cars are awesome Sure wish I had my own Ooh, so you're a car aficionado too And then you should really head to the junk pit The junk pit? Turn right at the fork Leading to the Lissab junkers market There's a pit where junkers toss all the stuff they don't need You're saying I can find a car there? Maybe not a whole car But you might find a frame Sweet! I'll be sure to swing by! Ok, nuova missione secondaria, benissimo E, oh, guarda un po' E' arrivato anche Quest'altro mercante Interessante Oh, grande Moneta d'oro antica Mappa del tesoro Otche Mappa del tesoro Tort Eh, però servono monete d'oro antiche Va bene Ok, ci sta Eh, negozi oggetti Il garage C'è l'emporio per questa cosa qui E poi c'è la valle orientale Si può uscire da qua Bene Direi che quindi possiamo andarcene Eh Ah, ok Non posso richiamare i veicoli qui Ma adesso dovrei avercelo, no? Ok Usciamo da qua E, a dire la verità, c'è anche un'altra secondaria Quindi che posso fare? Aspetta un attimo Ok, sì, ce l'ho Va bene Va bene, va bene, va bene Ce l'ho E mi sta bene così E vediamo che cosa possiamo fare Oh, ce ne sono di cosette Caverna sospetta Fiori in regalo Eh, ricerca componenti Eh Sì, facciamo queste tre cose, va Una è proprio qui vicino Andiamola a fare Aspetta un po' Direi che è il momento perfetto Per vedere Volto a scendere dal te E quello per saltare Sparare Modalità mira Vabbè, è uguale Grande Ok, ottimo Ok Ma cos'altro possiamo prendere? Quattro Quattro I'm the fiend prince Beelzebub. My luck must really have run out to cross paths with a demon. Did he just click his tongue at the prince? He must not know the meaning of fear. Hey, did you not hear what I said? Could you be a little more scared? Huh, so what if you're the fiend prince? I'm a hunter, and a geji dragon's the next target I plan on bagging. A demon child's nothing in comparison. You're hunting geji dragons? Best drop that dud of a plan now. Even I'm no match for that beast. Ha! Don't put you and me in the same basket. I've compiled the geji dragon strategy guide to bring it down. Hmm, sounds interesting. Let me take a look at it. A way to kill the geji dragon. If one really exists, I'm also interested. No can do. The cave I hid it in collapsed. No one's reading it now. You'll have to fetch it yourself if you want to see it. Bring it to me or I'll let you read it. Heck, I'll even pay you. I guess. Oh, beh, interessante questa cosa, no? Ok. Ok, allora, aspetta, eh. Perché questo vuol dire che c'è... Dove sarebbe l'altra, quindi? Bossa di diamonds, ok. Dove sarebbe la... Ah, minchia, è lontano. Ok, niente. Come non detto. No, oppure... oppure no. Aspetta. Forse... Forse no. Forse no, forse no. Aspetta. Forse è proprio qui. Sì. Molto bene, fatto. Oh, is that the strategy guide? Looks like it. Grazie. Hey, old man. What would you do if you ran into a tough enemy? Oh, you really brought it. Thanks. Here's your reward. Still, talk about tough luck. After so many natural disasters, Sandland's in bad shape. There might be other blocked caves like this one. True. We'll keep an eye out for them. Mm-hmm. Never mind that. You'll let me read that guide, right? I, Zeth, the giant beast hunter, wrote it. Read it with care. All right. Let's see what we have here. Oh. What sloppy handwriting. A good match for Kyuki. Oi. Old man. This looks like it was written by a toddler. I wrote it on the road, so you might have to squint a little. But it can't be that bad. Like right here. It says, uh, that the dragon, uh, it's a dragon, uh... See? Damn. Guess I have to rewrite it. How unlucky can you get? Next time sit down while you write. Yeah, I know that. I'll rewrite it carefully once I find a base for my hunt. A base? You're looking for a place to stay? You should go to Spino then. Oh, okay. Un altro. A town looking for new residents to help rebuild it. I see. Which means there aren't a whole lot of inhabitants yet. Guess it'd be a perfect place to settle down. Write a book. All right. I'll move into that Spino place of yours. And once I'm done with the book, Geji Dragon will be on the menu. Guess you'll be going hungry. Hmm. I think you're unfortunately right. Va bene. D'accordo. Guida strategica. Eh, questa l'ho persa. D'accordo. Benissimo. Ma non importa più di tanto. Adesso. Questa posso rimuovere. Ehm. Cerca componenti. Posso fare... Oh, okay. Posso fare il viaggio rapido qui, in effetti. Non dovrebbe essere un grosso problema. Ehm. E tanto poi per tornare giù c'è l'altro punto, qui. Dato che ci siamo facciamo questo, ok. E, eh, c'è... Oh, vabbè. Andiamoci con il carro. Ora sarebbe veramente figo avere un... Avere un... Oh, no. Aspetta. No, non ci si arriva neanche con questa? Pare di no. Aspetta, forse... No, non ci si arriva neanche con questo. Va bene, ok. No, non ci si arriva neanche con questo. No, ma questo è troppo alto Troppo alto proprio È ok, ma Maledizione È lassù Come cavolo ci arrivo Vabbè Ma lo devo aiutare Ok, ho capito Oh Un salvataggio completato Ok, grazie Attenzione, qua ci sono delle rovine E mo' sono interessato Ok Oppure no, perché Perché è più che sufficiente Ma è zitta No such thing Is too tough For me Perhaps not But I'm telling you Just in case That turns out Not to be true All right 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 C'è qualcosa qua? No. Ok. Ok. We'll probably find traveling merchants on the main roads. They roam over sand land, peddling their wares to all comers. Fellow travelers, huh? If we find any, let's stop and compare notes with them. Ok. Ok, adesso dove dovrei andare? No, vabbè, chiaramente di qua, no? Allora, di qua non posso distruggere niente. Forse mi è sfuggito qualcosa lassù. Ok. 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 Forse di qua mi è sfuggito qualcosa? Non so assolutamente dove andare. Forse mi è sfuggito qualcosa prima, dai. Aspetta. No. Ok. Non c'era altro. Boh. Vabbè. Io sto cercando di capire come cavolo arrivarci qui, eh. vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, sto cavolo di coso però fa un rumore infernale, quindi mi ha stufato. pure questo fa un rumore, devo dire. Oh, c'è un'altra secondaria? Aspetta, 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 aspetta allora. Cosa abbiamo qui? Oh, acciaio raptor, grande! Figo. Scaglia raptor alfa, scaglia di raptor, raptor alfa, ok. Oh! Figata. Bene. E basta, nient'altro. Ehm. Yes. E olio di scorpione invece? Uh! Olio di scorpione killer? Oh, ma ce n'è di roba? Interessante. L'uomo ammortizzante, materia vegetale, aladipter, ranodon. L'uomo ammortizzante ce lo dovrei avere, materia vegetale non ce l'ho ancora. Va bene, però un po' di robetta l'ho presa. Il che è bene. Ora, andiamo un po' a consegnare... Dato che siamo qui, dai, consegniamo questa taglia. Ok. Hey! Ma ecco... Bene. Che cosa ci hai dato di bello? Ah, zeni ottenuti, d'accordo. Hey! Sì, mi interessano le taglie, grazie. Pista Wasteland... Oh! Ah, continua ad essercene altre! Interessante. Comandante nichilista Rita. Vabbè, andiamo in ordine, allora. Hey! You there! You have a minute? Can you do me a huge favor and get me something? Huh? No way! Please! My boss will kill me if I don't get ten pieces of iron ore! Get it yourself, then! I've tried, I promise! I was mining for it till just now. Then I found a comic someone left behind at the mine. And it was really good! I completely lost track of the time. Is the comic really that good? You like comics? I'll let you read it if you bring me the ore. Here! Take this while you're at it! Okay. You're the best! Oh, right! Il filone di roccia dove scavare. Aspetta, però... Me lo dice... Me lo dice lui? Dov'è il filone di roccia? Oppure gli devo portare semplicemente dieci pezzi di ferro così? Perché francamente non lo so. Può essere sia l'uno che l'altro. Oh, guarda qua! Figo! 5 potenza del mitra, benissimo! Senti un po', ma se... Prendessi questo io? Eh, può essere utile, no? Senti un po' Scarica vecchia. È la secondaria. Sì. Secondo me ci sarà un boss. Eh, diamo un'occhiata però come. Cosa ci dovrebbe essere qui? Non ne ho idea. Cosa dovrebbe esserci? Ah, questo è... A far saltare? Ah. Ok. Ok. E che cosa mi porta? Forse... Aspetta. Forse devo scendere? Boh. Non mi sembra di vedere niente. 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 Chissà, non mi sembra di vedere niente? Ok, bene. Tanti bei pezzi di ferro Però in realtà Però in realtà C'è qualcos'altro Come diavolo ci dovrei arrivare io lassù E' strano Provo di qua Potrebbe essere Il carro è un po' più veloce In effetti si Ritorneranno insieme all'acqua Qui c'è questo tizio C'è stato per cascare come un fesso Ok bene che tanto Dovamo raccogliere pure i pezzi di ferro Oh banit Oh banit Ottimo Stiamo continuando ad andare giù No 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 Merda Oh merda Orca miseria Aspetta 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 Bene Bene E' andata bene Ho caduto di sotto Però sono arrivato dove Ho una corazza aggiuntiva Ok Cos'è questo? Beccare nuove componenti al garage di Spino Bene Chiedi a Nole gli altri componenti per auto Ok Però No però tornare su è una rottura di palle indescrivibile Non me ne va per niente di farlo Missione salvataggio c'è pure? Ehm No non me ne frega Ehm Onestamente non me ne frega proprio Tanto Tanto queste si trovano in giro Sono quelle casuali Mi danno solo un po' di soldi Che non mi dispiacciono eh Però francamente Chi se ne frega Al momento almeno Ehm Ok ci sarebbero quelle altre cose da fare Ma intanto torniamo al mercato Junker Ok Perché ci sono questi Dieci pezzi Di ferro Perché li avrò trovati a questo punto no? Deve per essere Ecco qua Grazie Grazie You're a lifesaver The boss can't be angry at me now I did your favor Can I see the comic now? Oh yeah Sure It's actually pretty funny I know right? Oh And here's the thing I promised Thanks I can never have too many of these So bring some over if you have any to spare I'll repay you of course And stock up on some new comics too Ok Inziometro Zeni ottenuti Ok Quindi Ah Tutte le volte che trovo dei dieci pezzi di ferro Posso riportarglieli Ok Ok Molto interessante Grazie Junker pigrone 2 Va bene Ok Comandante Oh Comandante nichilista Arita Dovrebbe essere qui Però come diavolo ci arrivo qui? Non ne ho la benché minima idea Non lo so Quindi Sapete che c'è? Vado prima qui Andiamo A quel punticino Extra Grazie I mostri Li evito volentieri Se però Capitano Gruppi di ribelli Con un carro armato Quelli li abbatto Molto volentieri E mi danno acciaio E altre cose E magari qualche componente O che ne so Che avo Oh Lì c'è qualcosa, aspetta La questa è qua di lato, perfetto Però prima sono Cosa Aspetta, perché non ci posso andare No, non mi ci fa andare, è proprio Chiusa Va bene, ok Andiamo qui Oh, piccola Should you be outside on your own? Grandma said I mustn't But I just had to thank the flower person Who's the flower person? They always leave flowers for me when I'm not paying attention Why would they do that? I don't know That's why I want to ask them and thank them But I guess I can't Since I can't be outside all the time If they come in secret, they'd likely stay away if they saw you Oh I just wanted to thank them for all those fragrant flowers Do you have any idea as to who it might be? Hmm Sometimes I feel like I can smell a hint of flowers drifting in from the north I see So this flower person approaches from the north What are you people doing? What do you want with my Lassa? You'd best not be up to anything Ma'am, I assure you we didn't do anything Stop, Grandma They're not bad people How could a demon not be bad? You go back inside This is why I hate humans Let's teach you a lesson, Prince What for? She knows her stuff Demons are evil, all right? Hey, old man Okay You plan on looking for that flower person, right? I was Do you mind if we make a little detour? If you insist Let's find that goody-two shoes Verità sul misterioso donatore di fiori Ah, okay, è molto vicino Okay, d'accordo E allora Così sia Finora Il carro è il veicolo più veloce Però Nella demo so che c'era per esempio una moto Con cui andare molto veloci Quindi non vedo l'ora di sbloccare quella, ecco Oh, guarda un po' cosa abbiamo qui Grande Okay Ottimo Io ringrazio Dio che non ci siano le munizioni in questo gioco Perché sennò sarebbe stata una rottura di palle indescrivibile Parafango standard Grande Inaccessibile Perché? Cosa c'è di inaccessibile? Scusa Ehm, mi è sfuggito qualcosa? Boh, vabbè Ah, qui è? Ehm, mi è sfuggito Great There's an alpha raptor west of here You just have to beat it West Got it Thanks I'll get the other ingredients in the meantime Okay Va bene Povera bimba Aiutiamo volentieri Okay Ovest di qui Fiori in regalo Okay Ce l'abbiamo qua Quindi se io facessi Ops Se io facessi così Dovrei essere un po' più vicino In effetti Ehm Qui Vai Andiamo a menare Oh Attenzione Sono questi Cos'è? Oh, un beccato Ok Torri di cilindri parallele ottenuto Grande, figo Molto, molto figo Bene Ok Meniamoli male It's the leader of the raptors More aggressive than ordinary raptors And they breathe fire I really cannot recommend fighting it unarmed Ok Qualcos'altro che possiamo prendere qua Mi pare di no comunque Perfetto Ehm Ma che devo andare adesso? Chissà perché non posso Vabbè E conviene fare così See these tire tracks? That's a sign that someone's been here before us Following them might lead us to a useful location like a village or town The car should also go a bit faster than the wood on unpacked ground Ok Allora Vediamo un po' Ehi Ma vaffanculo Ci sono già venuto qua Vai al diavolo Ma perché non me lo mostra sulla mappa come Come già È veramente una rottura di palle sta cosa Evitiamo Evitiamoli Non me ne va per niente Si 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 va bene Ok E poi andiamo a curare la bimba Che tenera All done Please Take it to her Nah That's your job But What if she realizes who I am? You'll be fine As long as you don't get busted as a demon Hmm All right I'm off then Però Come gliela lasci Se non Oh We'd better check things out Ecco appunto Serio Quindi torniamo lì Ok E Se non erro Trovare il knocker Ok Aspetta E Sì Vavara Non serve Perché tanto So dov'è Andiamo It seems her eyesight hasn't been restored Hey girl Yes Hearing you made me really happy Would you sing for me? I'm Army E E Zitta Nonna No 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 Prendi il car amato Fai saltare la casa Ne porta via la bimba E curala E I'm sorry Maybe we really should teach that granny a lesson Serio It's fine It's fine For her say thank you again So I'm happy Seriously What? Nothing Guess I'll be going then Thanks so much everyone Eh vabbè Non è finita bene come speravo ma Siamo a battere Avrei davvero voluto vedere un po' come funzionava ma vabbè Non fa niente D'accordo È il momento di procedere con la principale Adesso abbiamo fatto davvero quello che è Che volevo fare Per ripulire la mappa di parecchie cose Ci sono gli obiettivi quella ma Ci tornerò quando è più comodo farlo ok Per adesso Evito Diciamo che Con l'obiettivo un po' più lontano Che devo fare un po' di strada Mi sa che ci tornerò quando C'ho un veicolo più veloce Non dovrebbe volerci chissà quanto Oh madonna che colgioni C'è un po' di strada Un po' più agevole da usare in certi momenti Questo è Sì In questo momento per esempio è stato molto più agevole Voglio andare di qua Sono curioso Vedere cosa c'è Il niente No Cioè nel senso potrei provare a salticchiare quella ancora ma Secondo me non c'è niente Non perdiamo tempo Inutilmente We need to keep our bearings passing between the clips It's easy to lose your sense of direction on these windy roads Yep Lancia granate Non mi piace per niente Chissà se ci si può mettere un altro tipo di arma Nel futuro Madonna basta con sti dialoghi che si ripetono Che due coglioni Andiamo un po' Oh Attenzione Alla faccia della base Wow Their defenses are much stronger than I expected It's practically a fortress There's no breaking through that As expected We'll have to take a detour via East Valley Hmm Huh? What's this? That's my lucky charm Wait a second I know this human She used to be a famous movie star Sexy terrier, right? You might act like a stick in the mud But looks like you're a dirty old man on the inside Shut up and sit down We're moving out Planning to face the army Planning to face the army old man? Is that what the lucky charm's for? What? What? But you said we weren't going to fight the royal army? But the old man's obviously gotta pay the royals back For what they pulled on him Hold on Please tell me you're joking That was thirty years ago It's your fault, thief You're the one who blabbed all those secrets to him like a total know-it-all No My top priority is to find the spring But if the royal army gets in my way I'll gladly take them on I'll give my left arm for a chance at Supreme Commander Zeu Eh, sono d'accordo Lo meniamo Papa It's a tank Che cazzo è? Chi è? Nice going, Pike I knew we'd score us a catch Chi cavolo sono questi? All right Get in position Ma che diavolo Ma chi sono questi? Ah 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 Ok Ah Quindi Di qua Direi di no Andiamo e basta No It just sucked big time if our bots broke down and we didn't have her around to fix them Don't worry, sweet prince The girl's safe in Spino Like I said, I am not worried Tell me, how do humans make a living? Craps, agriculture, hunting, trade It's pretty varied And some bad eggs resort to thievery of course We steal from humans sometimes too That's nothing to be proud of Unless you're stealing from the army Grazie Per il pristino turbo, ok Oh, guarda cosa abbiamo qua Figo, figo Alla diptera, no, no Ok, figo Sono altri tipi di nemici qua Molto bene Le creature volanti Questa è molto meglio Oh, aspetta Oh no Oh no Sono caduto di sotto Che due coglioni Chi è o? Dov'è? With the palace close by We're safe from bandits here Certainly not safe from the royal army though Cause a ruckus and soldiers will be on you like hogs I don't want to see that Demons Dove non andare out looking for trouble Prince Guarda qua Sto trovando tante belle cosette Devo dire Che cosa abbiamo? Ok, beh Vabbè andiamo va Va bene, va giù, va giù, va giù Che è una bellezza Bene, molto molto bene Grazie Io ho come l'impressione che Io ho come l'impressione che con il mouse Cioè che questo gioco sia nato per il pad, no? E che con il mouse sia davvero più facile Perché mirare è molto più comodo Ma tipo di tanto, non di poco Secondo me Qui dove si va a finire? Si va ancora più su Grazie, va bene, va bene, ok Oh no, aspetta, aspetta, aspetta Qui c'è qualcosa Ah, qui si pa... Era dove ho preso quelle altre casse C'è dell'altra robina D'accordo Sì, abbiate pazienza qui Devo un attimino Fare un po' di cose Rimango con questo qua Perché in questo momento Mi pare più utile del resto If enemies take you by surprise Just stay calm And try to get distanced from them And then run away Running in a blind panic Gives them more chances To hit you in the back Assess the situation calmly instead Buongiorno I prefer running forward Oh, mi sa che l'ho salvato Sì Oh, attenzione Ok, no Qui serve il carro Scusate Lo dobbiamo qua Non c'è granate di qualche tipo Ok Ancora Cosa abbiamo qui? Ah Francamente non so bene Dove sto andando Aspetta C'è qualcos'altro qui Sì Dove sono finito? Ah Ok Grande Aspetta Ok Bene Ho sgamato un accampamento Benissimo Che corazza Vabbè vanno a salutare Si arrivi corrente Chi se ne frega Thank you Riposo Vale la pena Dove sono Soprattutto Sono da tutt'altra parte Ok Mi sa che ci tocca Tornare indietro Ragazzi Ho come questa Leggerissima impressione Sapete? E credo che Prenderò Siccome ho già ucciso tutti Chiedo che Ne approfitterò Per Dare questo Che dovrebbe essere Bello veloce Per tornare indietro Prince Ci sono molti piccoli Cagli Allora Sandland Ci possono essere Items In loro Che potrebbero essere D'uso Sì Ok Sì Sì Si torna indietro Molto velocemente Con questo Ottimo Ok Ora da qua Riprendiamo la strada Perché questa è stata Una deviazione Mi pare di capire Sì da qui Cascata di sabbia E da qua Si deve andare dritti Qui c'è un mercante D'accordo Hai qualcosa di figo? No Evitiamo Sti raptor Invece Belli diretti Qui si riprende ancora Perché Ah ok Posso fare anche con lui Grande Benissimo Scorta d'acqua Oh e dai Oh e dai Madonna No devo per forza Scendere No vabbè Chi se ne frega No Ok Andiamo Serve lui Per forza Porca troia Ho sbagliato Ok Ora ci siamo Ok Ok Lassù Giusto E ci vorrà Anche un pochino Beh guardiamoci Intorno C'è qualcosa Perché qua Salire Ci vorrà un po' No Non sembra esserci altro Non sembra Non sembra Non sembra Che succede? Wow, 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 wow! Merda! Oh, ok. Nei cacciatori di taglie, vero? Wait! Papa! It's Beelzebub! He's in the jump bot! W-what? Beelzebub? W-why's the fiend prince hanging around with a human? W-what did we do? He's flat on us last time. Don't be a coward. We're the swimmers, the biggest baddest criminals in all of Sandland. But for now, we might just want to cut rocks from a safe distance and be ready to run if it doesn't work. Ok. Ok. It's the swimmers! Don't sleep at all. The swimmers? As in the famous bandits? They're on a loro. You should have known those crooks would play dirty! I'll blow them away! Wait a minute, Prince. The jump bot's history of so much as a single boulder connects with it. Oh, right! Then I'll go thump them in person! Ok. Oh! La miseria. Ok. Ok, moment... Oh, cacchio. è questo? Ok. Nice and sit, little man! You're walking. Huh? Hey! Get back here! That's weird. I thought I actually heard Beyozebub talking to me just now No, corre, man Ah, yeah Ok Va bene E mo li pistiamo E uno è andato Ora pestiamo quell'altro Aspetta, no, com'era Molto bene Ok Pestato alla staragrande Giù dal dirupo Oh oh Mi sa tanto che questi li ritroveremo periodicamente In serio Per la taglia? E' grassissimo quell'altro Si, c'è anche una balena con un fucile Sì, ma prima di fare i coglioni vestiti da nuotatori Minchia A scappare sono bravi, devo dire Aspetta, c'è qualcosa qui Dov'è? 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 Dovrebbe essere... Ah no, ok, mi sa che è lassù Perfetto Perfetto Ok Oh guarda Il mare di sabbia Che bello Qui c'è qualcosa No, 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 no Sbagliato Grazie Grazie Il mare di sabbia Il mare di sabbia Il mare di sabbia Il mare di sabbia Che fa il mio cuore Mi sono introdotto Dov'è? Dobbiamo fare la maggior parte La giornata No, no No, no No, no Forza perché Vabbè, potevo cambiare il carro armato con semplicità Però vabbè, dato che ci sono Mettiamo a posto questa cosa Dopodiché Vai di carro Eccoci Bene Siamo dall'altra parte Minchia Quello è già arrivato? S-s-say what? This man, spotted inside the stolen tank, has been identified as Rao The 61-year-old sheriff of a small town to the north of the central district Known as Apoto Village However, when we ran the fingerprints of this sheriff Rao through a centralized database We discovered a far more shocking truth Rao is a mere alias This man's true name should be familiar to every citizen of this kingdom For it belongs to the military genius who became a general of the royal army at the tender age of 27 The legendary super soldier who protected Sandland from rebels and outlaws alike Fame for his mercy and gentlemanly conduct toward even his fiercest enemies The great, renowned General Shiva Huh? A staggering development to be sure Okay General Shiva has long been assumed dead, killed by the massive explosion Caused when he protected Sandland from the attempted Peachy Rebellion Not only that, but his nearby hole was destroyed in that same explosion Slaying his beloved wife and robbing the world of a star Oh, cazzo Saxo and musician, sexy Terry Why didn't you tell me that was your wife? I'm mortified if I'd known I'd never have said Don't worry about it I thought she was sexy too That's why I asked her out Mi sembra giusto But if she was your wife Why a magazine clipping? È l'unica cosa che era rimasta forse Eh già Immaginavo Cacchio Shiva No It can't be Inform General Hare of this at once And while you're at it Tell the news office to dabble the reward for Shiva And to make an announcement That anyone found sheltering him Will be severely punished Y-yes, sir Shiva What are you up to? Z-Zeyu Explained this You told me we'd gotten rid of Shiva Ah, con lei re Shhh Keep your voice down, your majesty What? General Shiva? You mean That? General Shiva? I'm Going to be fighting A legend Now that's what I'm talking about Send out the tanks And reinforce our defenses at all locations Sir Okay What's the plan now, old man? Unchanged We find that spring But first I'd like to swing by one of the radio towers Under the army's control East of here What do you want to do at a radio tower? I have a message that I'd like as many people as possible to hear And the radio equipment there Will let me broadcast what I have to say nationwide Okay Allora Dov'è che siamo qui? Eh, interessante Oh, demons consolato Oh Oh, oh, oh Attenzione Questo è interessante Questo è l'obiettivo E Corndo Il cavernicolo è qua giù Ah, questa è tutta la mappa però Ok Ehm Vabbè È meno Gigantesca di quanto immaginassi Bene Molto meglio Grazie Allora C'è altra roba qui? No Andiamo E oltretutto qua Ah I coccodrilloni Ok Ok Vediamo cosa c'è qui Questa è un'altra secondaria Mi pare, sì Maybe I should just run away But But what about Never heard anyone talk to themselves so loud So what if people hear me? Nobody cares about me anyway I'm so forgettable Not even my fellow diamonds know I exist Oh So you're with the bandits, huh? Not by choice They kidnapped me young and put me to work I'm supposed to earn my freedom after this job Except I can't do it And since they barely acknowledge me I figured I might as well just run off now Then again If they remember about me and come after me Just finish the job, man They want me to take out some monsters so they can expand their territory How the heck am I supposed to do that alone? That certainly does sound dangerous What do you think, Prince? Should we help him? Oh, come on Do we have to? Ma perché dobbiamo aiutare i banditi? I want to help this young man get his life back on track Ah, ok You 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 mean you'll actually help me? Oh That would be a big deal Ah, così se ne vada i banditi, ok, ok I personally don't see what's wrong with him being an outlaw Please I'll give you something in return Oh Oh C'è il Raptor? Molto bene Ok Convindiamo gli Pteranodon Vediamo dov'è Che dobbiamo andare Ah Qui? Davvero? Beh, allora Aspetta che c'è una missione di salvataggio che è proprio qui Who's over there? Royal Army Tanks This is far too many troops to be defending such a remote location Were they expecting us? Seems their commander's no stranger to war Bene L'ho aiutato Perfetto E... Però francamente scusate, eh No, andiamo a fare prima la principale Onestamente Perché tanto lì ci posso tornare in un secondo, è proprio lì vicino Giusto? Non vedo perché no If you ever think you might be lost, you should check the map Yeah, getting lost and having a bad track would be a pain Focus your attacks, bring them down one by one Yep Ok, sì ma fammi General Array The tank squadron at the checkpoint has been decimated They what? General Shiva's tank took them out and continued on Round up all the soldiers in the area and hunt them down Ok, grazie, sì Uh, guarda cosa abbiamo qui See the radio tower on top of that hill что sta so Prince See the radio tower on top of that hill? That's our target This will be a piece of cake Don't get cocky just yet The army must be aware of our general location They're sure to reinforce their defenses in the area Okay Oh Aspetta Un altro venditore ambulante probabilmente inutile Che non c'è niente di Veramente interessante Infatti no Facciamo sta cosa Vai Sono curioso di vedere qua La faccenda della torre Quanto per il resto Sterminio totale assoluto Yes Esatto Oh è interessante C'era anche un componente Poi non vedo l'ora di tornare al garage Allora qui dovrebbe esserci qualcosa Diamo un'occhiatina So What are you gonna tell everyone? The truth And what's been on my mind I've got a bad feeling about this Non può non esserci assolutamente niente qui Va bene punto di rifornimento acqua Ce l'abbiamo qua Ce l'abbiamo qua Va benissimo Andiamo giù Vediamo se c'è qualcosa qui La risposta è sì Dai Ok E si riparte Mamma mia sono insopportabili i discorsi Che si ripetono in continuazione Scorpioni Chi se ne frega Qui c'è un campo Benissimo C'è un punto da raggiungere con Il Con il robot salterino Progetto car armato Ok Progetto saltabot 2 Componenti di saltabot Ok benissimo sta cosa Bene Allora I venditori ambulanti va bene Bisogna controllarli sempre Perché qualche volta potrebbero avere Cose come queste Sì Qui C'è qualcosa Da fare? No Onestamente no Ok Due sono addirittura Ok Varo Uno e due La fregna di mammeta Fa un culo Ok E lì ce n'è un altro Ok Ok Sì, sembrava che c'è qualcosa da qui. Sì, sembrava che c'è qualcosa da qui. Sì, sembra che c'è qualcosa da qui. Sì, sembra che c'è qualcosa da qui. Sì, sembra che c'è qualcosa da qui. Cos'è questo? Minchia, è gigantesco. Aspetta, cos'è un... E' mega enorme questo. Facciamoci, proviamo. Eh, regina, ok. Minchia, ok. Minchia, è ignorante questo qua, eh. Andato. E' un scheleto scorpione e regina. Ottimo. Bene. Questo... Potrà essere molto utile, credo. Andato. Che diavolo ha fatto? Aspetta. Ma... Ok. 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 Sì, va bene, ok. Anche questi. Perfetto. Perfetto. Si va. È un po' macchinoso il gioco, nel senso, adesso sto cercando di muovermi velocemente. Non vedo l'ora di avere la moto. Che so che c'è. Diciamo. Uh, ecco qua. Altro schieramento. Va bene. Attenzione. Allora. Eh, Rao! Ci siamo trovati. Ci sono più che ho aspettato. Ma possiamo ancora prendere loro. Guardate! Ci sembra che ci hanno trovato. Un'ambusione. Cosa faremo? Ci siamo s***ing ducati qui. Cosa faremo? Guardate la tua ozata. Bielsa, il fattore. Tu vedi per questo? Vi, vi. Cosa faremo? Cosa faremo? Quante volte mi devo dirmi che lui adorare come Prince Beelzebub? Ok. Si va. Eh, almeno questo era un tipo di divertimento. Lì! Allora! Si! Sì. Sono sempre più convinto del fatto che il mouse in questo gioco ti dia un vantaggio decisamente notevole. Nei momenti in cui bisogna fare fuoco. E le parti stealth, per esempio, sono fastidiosissime. Da fare con mouse e tastiera. Però, vabbè, dai, insomma. No problem. Tra parentesi, io mi ricordo che c'era una torre anche in un altro punto. Magari poi si può tornare a sbloccarla pure lì. Che vuoi tornare a sbloccarla pure lì? Sbocca! È bruciato! Mi sembra che hanno disabili lì in avanti, per mantenermi da usare lì. Ci hanno scelto come un libro. Questo comandante è un pro. Quindi stai dicendo che questo era tutto per nulla? No. Penso che possiamo sblocarlo. Solo bisogna i materiali giocati. Ok. E magari ce li abbiamo già, i materiali giusti, no? Cannone anima liscia? Cos'è? Vedo l'ora di tornare al garage. Vediamo se c'è qualcos'altro. Magari di qua. Aspetta. No, sembra esserci un piffero di niente. Ok, vabbè. Vediamo un po'. Potremmo usare questo per trovare l'area. Usa i materiali per riparare le torri radio. Una volta riparate le torri fuori dalla mappa dell'area è provvista di icone. Figo. Ah, ma non ci vuole niente. Ce n'ho mille, mila. Ok. Capirai. A posto. Grande. Figo, figo. Va benissimo. News office? This is Shiva. Former General Shiva. Yes. The man himself. I have something I want to tell the people of this country. If you'll let me transmit it. Yes. Right away, please. We have just received radio contact from a man claiming to be General Shiva himself. What?! He has a message for you all. And while we have not been able to confirm his identity. We have agreed to transmit his words live on air. Beginning now. This is Shiva. First, allow me to sincerely apologize to you all. For any distress I may have caused. Tipo di suggerere una divisione quarazzata. All units. Cut the engines. Make quiet. I freely confess to the crime of stealing a tank. But unlike what you were told previously, I have not attacked any villages with it. I swear this on my life. It is not my aim to spread panic and confusion amid this country. I intend only to find a legendary spring which I assure you is no mere fairy tale. For this country cannot withstand any more drought. The spring? The spring? Did he say spring? What is he even talking about? So please, just allow me to finish this mission without interference. When I find the spring, I promise to make its location public and return the tank I stole. That is all. Actually, I have one final message for a certain person on an entirely different subject. Though this doesn't absolve my role in causing that explosion thirty years ago, I've learned the truth behind it. Commander Zeyu, you are the only one I will never forgive. Over and out. Mr. Shiva, a question if you were... I'm afraid he's cut the line. Contact the news office immediately! Tell them that they are never to allow that criminal to speak freely on air again! This is bad, isn't it, Zeyu? He said something about the truth behind that explosion! And then there's that spring he said he's looking for! Do you think what he's really referring to is our secret water source? Oh, this is bad! Very, very bad! I'm sorry for dragging you two into this. All right, let's keep heading south. D'accordo! Allora, questa è più o meno la situazione. E dobbiamo fare altre cosette. C'è anche un punto di rifornimento d'acqua. Oh! Ci sono delle rovine. Interessante. Ah, ok! Aspetta, aspetta, aspetta però! Quelle che ho già visitato vuol dire che sono... Ah, ok! A questo serve la torre. Interessante. C'è anche un grotto di qua. Però quello dove ci sono... Ah, no! Quelle dove sono già stato non me le indica... No! Non è quello che pensavo. Il che è francamente un po' fastidioso. Una cosa che possiamo fare però, onestamente, è andare un attimino. Ah, perché voglio... Voglio finire questa secondaria. Ah, in un'area, ok! Dove cavolo dovrei trovarli? Vabbè, allora... Ora che ci penso, sapete? Ok. Dobbiamo. Facciamo questo. Questo score è mio per sottolineare. Va bene. D'accordo, ragazzi. Allora, io direi di interrompere qui la puntata. Ok? Perché abbiamo già fatto molto. E... Guardate, eh. Pieno di dialoghi. D'accordo. Va bene. Bene, ragazzi. Direi di fermarci qua. prossimo episodio continuiamo con questa piccola secondaria. Questi continuano a parlare come se non ci fosse un domani, quindi io li ignoro. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. D'accordo? Grazie a tutti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al primo canale e seguitemi su Twitch. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e il link a Patreon, link alla playlist con tutti quanti i video della serie di Sandland e anche il link per acquistare il gioco. Se lo acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, gente? A presto.